Oggi parliamo di come studiare per più esami in contemporanea utilizzando una strategia, una tecnica, che si chiama Interliving. È un modo per ottimizzare il tempo che hai a disposizione e quindi riuscire a incorporare e incorpare più cose da studiare in contemporanea, appunto. Prima di fare questo, però, voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari, attraverso i link che trovi qua sotto in descrizione. È facilissimo, devi inserire solo il tuo nome e la tua email. Proprio nell'email riceverai tutti i contenuti del corso. Appunto è gratis, sicuramente ti può aiutare, prova, non hai proprio nulla da perdere. Tornando invece all'argomento del video di oggi, vediamo insieme la sigla e poi ti spiego qual è questa strategia dell'Interliving e come ti permette di studiare per più esami in contemporanea. Vediamo quindi insieme la tecnica dell'Interliving e come utilizzarla per preparare più esami contemporaneamente. Partiamo da una definizione molto molto semplice di questa tecnica e consiste nell'alternare nella stessa giornata argomenti di materie diverse e quindi studiare sostanzialmente nella stessa giornata due materie o comunque materie diverse. Facciamo l'esempio con due perché il più delle volte sono sufficienti per portare a fine l'intero obiettivo. Questo diciamo che è l'incipit, quello da cui partiamo. Facciamo un po' questo ragionamento. Ipotizziamo di avere una materia A, che rappresenteremo con il verde, metto A per riferirmi a una materia, ma poi il nome dipende da quello che stai studiando, e la materia B con l'azzurro. Nel giorno 1, che rappresentiamo in questa colonna, facciamo sia A che B, o perlomeno un po' di A e un po' di B. Un argomento della materia A e un argomento della materia B. Questo stesso meccanismo lo ripetiamo cambiando argomento, ma mantenendone appunto la struttura. Quindi il giorno 2 avremo materia A in verde, materia B in azzurro. Giorno 3 faremo materia A, quindi sempre quella in verde, B in azzurro. Giorno 4 la stessa cosa, e poi rappresento con delle frecce per dire che ovviamente 4 giorni non bastano, ma il meccanismo è sostanzialmente lo stesso, quindi non ha senso ripeterlo all'infinito. L'importante è che hai capito che ogni giorno, che lo rappresentiamo in questa colonna, quindi separata da queste linee tratteggiate, andiamo a studiare qualcosa della materia A e anche qualcosa della materia B. Adesso vediamo come. Intanto soffermiamoci su questo. L'importante è che tu capisci che non devi fare o l'una o l'altra, devi fare tutte e due. Questo ovviamente cosa vuol dire? Che dobbiamo avvicinarci da un punto di vista pratico. In questo giorno X, metto X perché poi vale per qualunque giornata, quindi non mi riferisco solo al primo o al secondo o al terzo, ma proprio in generale come organizzare la giornata, abbiamo la materia A e la materia B. Ci sono tre step che devi seguire. Il primo è questo. Devi calcolare il tempo di studio che in quel giorno X vuoi dedicare appunto alla preparazione delle materie, degli esami. Per esempio, calcoli il tempo di studio che hai a disposizione per il giorno 1, che sono tre ore in totale. Questo è il primo step. Quindi tu sai che giorno 1 hai tre ore da poter dedicare allo studio. Queste tre ore devono riguardare sia la materia A che la materia B. Quindi non devi fare tre ore e tre ore, ma tre ore in totale. Questa è la cosa importante. Ovviamente cosa vuol dire? Che se il giorno 2 non puoi dedicare tre ore, ma puoi dedicarne solo due, allora per quel giorno le ore in totale saranno due. Poi magari c'hai una giornata libera e puoi dedicare sei ore di studio. Benissimo. Allora per quel giorno avrai sei ore per studiare la materia A e la materia B. Questo è molto importante perché non possiamo pretendere di avere tutti i giorni esattamente le stesse ore. Abbiamo tantissimi impegni, lavoro, anche cose al di fuori dell'impegno universitario di lavoro, quindi possono capitare anche degli imprevisti. In totale è importante capire più o meno oggi quante ore posso studiare. 3, 4, 1, 6, 10 e dedicare queste ore allo studio della materia A e della materia B. Questo è il primo step. Il secondo è quello di dividere per due. Quindi se, continuiamo con l'esempio di prima, ho a disposizione per questo giorno tre ore in totale, vuol dire che devo dedicare un'ora e mezza alla materia A e un'ora e mezza alla materia B. Questa alternanza tra A e B è quello che poi mi permetterà di fare camminare insieme le materie e con la stessa quantità di tempo, in modo tale che divido perfettamente mezza quanto studierò la materia A e quanto studierò la materia B. Ovviamente questo secondo passaggio da cosa dipende? Da quante ore ho a disposizione in totale? Perché se avessi avuto sei ore di studio, dedico tre alla materia A e tre alla materia B. Se avessi avuto un'ora di studio, talvolta può capitare, meglio un'ora che niente, dedico mezz'ora alla materia A e mezz'ora alla materia B. L'importante è comunque dedicare del tempo allo studio. Se nel frattempo dovesse anche verificarsi che, per esempio, hai più difficoltà a gestire una materia rispetto all'altra, puoi anche organizzare il tempo, seguendo questo esempio di tre ore totali, per esempio dedicando due ore alla materia A, perché è un po' più difficile, e un'ora sola alla materia B. L'importante è comunque farle camminare il più possibile insieme. Il terzo e ultimo step è quindi quello appunto di studiare a livello pratico. Allora dedica la metà del tempo, o vai ad aggiustarla in base alla difficoltà della materia, alla materia A, per la prima materia, in questo caso l'abbiamo chiamata materia A, poi cambia il nome in base a cosa stai studiando, e poi applichiamo lo stesso ragionamento per la materia B, e poi cambia il nome in base a che cosa stai studiando. Quindi questa è la tecnica dell'interleaving. Questi sono i tre step per riuscire a gestire queste due materie. Vai ad adattare i vari giornati in funzione dei tuoi impegni, di quello che puoi fare giorno per giorno, e questo si dimostrerà un metodo molto molto efficace per aggiustare la tua routine di studio giornaliera, non solo alla necessità della singola giornata, ma anche a lungo termine, riuscendo appunto a studiare per più esami contemporaneamente. Questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi, ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua attenzione, ti invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari, trovi il link in descrizione, e sempre in descrizione ci sono anche i contatti, se vuoi chiedermi qualcosa, se vuoi per scrivere nella sezione dei commenti, sai come rintracciarmi. Ma in ogni caso io ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.